La missione di far riaprire le attività a Saione sta per essere compiuta. Il progetto Wake Up, ideato da ConfCommercio, farà sorgere 5 nuovi spazi proprio nel quartiere diventato nell'immaginario collettivo come il più problematico di Arezzo. Il tutto grazie a precisi incentivi come la sistemazione dell'ambiente resa possibile da un contributo della regione toscana, apertura a zero canoni per due mesi. L'iniziativa ha riscosso un grande successo anche perché dobbiamo ricordarci che attorno ai negozi si sono create le città, i centri dove si vive, le collettività e proprio dai negozi vogliamo ripartire. Devo dire che nel frattempo il 28 agosto inaugureremo 5 attività che non sono propriamente attività commerciali. Nella maggioranza hanno accolto questa nuova esperienza e avventura artisti, designer, un antiquario, una società di cooperazione di servizi alle persone e apriamo un ufficio anche noi di ConfCommercio proprio per dimostrare che siamo vicino alla città, per dare le informazioni, per dare la logistica dei fondi che saranno a disposizione e per dare un segnale anche noi forte e chiaro di quello che potrebbe diventare di nuovo questa zona che è stata nel passato uno dei centri commerciali più importanti della città e che dovrebbe ritornare al suo antico splendore. Via Arno, via Montegrappa, via Piave, via Nazario Sauro, le vie interessate da questa rifioritura commerciale. Una bellissima idea che si è scontrata anche con l'indisponibilità di offrire i locali al momento sfitti di alcuni proprietari della centrale via Veneto. I primi due mesi le attività saranno gratuite perché l'esperimento appunto prevede questa soluzione ma il Comune che ha investito in questa zona, in questa operazione, in questo progetto finanziato appunto dalla regione, il Comune attraverso l'assessore Comanducci ha dato degli input forti e chiari dicendo che anche nel proseguo delle attività ci saranno degli sgravi e delle condizioni sia di tassazione che comunque di spese, di costi di gestione fissi molto ridotti per coloro che appunto si occuperanno di riaprire attività nelle zone critiche. Non è detto che sia solo in tutte le zone critiche della nostra provincia. Anche perché portare il commercio, la vita è il migliore strumento di decoro, no? Certo, i negozi. Io sono una commerciante da ormai tre generazioni e sono fortemente convinta e innamorata del mio lavoro. I negozi sono un presidio sociale. Nelle nostre attività sono cresciuti anche i figli delle persone che abitano qui vicino, li lasciano quando tornano da scuola. Sono un punto d'appoggio importante, sono un presidio di sicurezza perché l'ambiente è illuminato, perché la zona è più pulita.